Parliamo di istruzione, saggio finale ieri a Sassari del corso in Sassarese per i bambini dell'Istituto Comprensivo San Donato. Vediamo il servizio di Emanuele Floris. I bambini a scuola di Sassarese e di musica. Ieri nel plesso di Via Bottego dell'Istituto Comprensivo San Donato, scuola primaria Montessori, è andato in scena il saggio di fine corso davanti a genitori, insegnanti e piccoli allievi. L'obiettivo era quello di presentare la lingua sassarese attraverso delle canzoni, attraverso la musica. Quindi è stata fatta una canzone nuova per l'occasione, Semmo di Santudunaddu, in cui ciascun bambino ha potuto esprimere la propria personalità parlando delle cose che gli interessano in Sassarese, con lo spirito sassarese, quindi in modo simpatico. Eseguite anche altre canzoni tipiche del repertorio sassarese, come ad esempio i Candarelli, a partecipare all'iniziativa che ha permesso ai piccoli di avvicinarsi alle tradizioni di Sassari, un centinaio di bambini dai 6 ai 10 anni. Molti di loro, tra l'altro, non sono neanche né sardi né sassaresi, però devo dire che tutti hanno partecipato al progetto con grande interesse, anche grazie al maestro che è stato veramente bravo nell'approcciarsi e nel fornire anche elementi caratteristici della cultura, oltre che la lingua. Il corso è stato reso possibile grazie ai fondi Insulas della Regione, che tutelano le lingue minoritarie, e a un'associazione locale che è stata il soggetto proponente. È la scuola di San Donato, davvero con gioia e entusiasmo, attraverso la dirigente. Patrizia Mercuri ha sostenuto i progetti e li hanno portati avanti. Grazie a tutti.